Momento magico Il cambio console Dopo tanto tempo che non lavoravo con il comandante G-chan 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 Speciale cambio console alle 2.45 G-chan 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 Embassy Embassy Summertime 99 So good G-chan 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 Grazie a tutti. 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 E... 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 Grazie a tutti. 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 e... e... ... 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 Grazie a tutti. 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 con... 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 ... con... ... 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 Ciccia, Andrea, dove sei Andrea? E' arrivato anche il mitico Andrea. Wow, questa è magia. Quando la musica diventa magia è perché la console è magica. In questo momento, speciale Ginger, il comandante, alle 3.30 della mattina, una notte all'Embasi, una notte gustata, il 9 agosto, 9.99. Vivere per vivere! E per di... La voglia di vivere! La voglia di vivere! La voglia di vivere! La voglia di vivere! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.